In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costruito il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro «Un profeta non è disprezzato, se non nella sua patria, tra i suoi parenti in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando». Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria Oggi la Santa Chiesa commemora San Giovanni Bosco, questo grande santo che ha fatto della sua dottrina un grande esempio di santità, della sua scuola, del suo istituto, grande scuola di santità. E tutto si dice, come ci insegna anche San Domenico Savio, il suo primo santo, il suo primo discepolo, tutto sta nella gioia, fare tutto per la massima gloria di Dio, con gioia, e questo è il segreto della sua ansietà, e fare bene i propri doveri. E quello che ci indica oggi la liturgia di oggi, soprattutto, ecco, nella liturgia, Gesù si trova a Nazareth, nella sua patria, dove aveva percorso alcune regioni, alcuni paesi del nord, della Galilea. Abbiamo visto i giorni scorsi Gesù che è stato a Cafarno, che è un luogo di confusione, questo vuol dire che poi è andato al di là del Giordano, è stato anche l'episodio in Giordania, la liberazione dell'indemoniato di Gerasa, e poi Gesù ritorna in Galilea adesso, nella sua patria, nella sua città di origine. E qui si trova a Nazareth e Gesù compie pochi prodigi, perché la gente non riesce a credere ai propri occhi. Com'è possibile che costui faccia queste opere, insegna con autorità, guarisce gli ammalati? Perché conoscevano San Giuseppe, conoscevano Gesù come il figlio del carpentiere, il figlio del fariniamo di Giuseppe. E tono difficoltà, e poi dicono, in mezzo a noi non ci sono i suoi fratelli e le sue sorelle, non sono fratelli e sorelle carnale, ma indicano i cugini, perché nella lingua ebraica non esiste la parola per indicare i cugini e i fratelli, Gesù usa la stessa parola, quindi sono cugini di Gesù, questo per confutare alcune sette retiche, che pulono anche nella Chiesa, che dicono che la Madonna non è vergine perché ha avuto altri fratelli, altri figli, quindi Gesù ha avuto altri fratelli e sorelle, sono eretici, non conoscono la sacra scrittura, perché non hanno studiato, sono illetterati e quindi, e sono soprattutto nel grave errore. Allora Gesù insegna nella sinagoga, al titolo di Rabbi Gesù e Maese, e comincia a parlare, la sinagoga era il luogo dove gli ebrezi orinivano per ascoltare la parola di Dio, veniva commentato, ecco, dagli scrivi, e Gesù ha questo ruolo, ma la gente rimane meravigliata per la sua autorità. Ciò che fa riflettere oggi è che Gesù, come ci sia neanche San Giovanni Bosco, ha fatto per trent'anni il suo dovere di buon ebreo, per trent'anni ha vissuto nel totale nascondimento, dopo trent'anni Dio Padre lo chiama, dopo il battesimo al Giordano, da San Giovanni Battista, lo chiama alla sua missione di far conoscere, di rivelare la sua missione, di rivelare la sua identità e offrirsi come vittima per il popolo. Ma per trent'anni ha vissuto nel totale nascondimento, facendo bene ogni giorno il suo dovere, così diceva San Giovanni Bosco e i suoi giovani, i suoi allievi, nel suo fine è quello di formare dei buoni cristiani e di onesti cittadini, e così Gesù anche nella sua vita ci ha dato un grande esempio, ha vissuto nel nascondimento, in questi trent'anni di formazione ci ha dato il buon esempio, ha vissuto con onestà, ha lavorato con onestà, questo deve essere il cristiano, lavorare con professionalità, con dedizione, fare bene il proprio lavoro senza imbrugliare, senza rubare, senza dichiarare il falso e farlo bene, e questo ci insegna oggi Gesù. E poi Gesù non ha iniziato subito la sua attività pubblica, quello ci fa comprendere che il cristiano prima di iniziare la sua attività pubblica, di parlare di Gesù, di evangelizzare, deve raggiungere soprattutto l'unione con Dio, come Gesù per trent'anni nel nascondimento, e ci insegna veramente il nascondimento, bisogna raggiungere soprattutto la pienezza dell'unione con Dio, soltanto così la missione in cui siamo pieni di Dio possiamo donare agli altri, non si può donare quello che non si ha, non posso donare Dio agli altri se non è in me, e Gesù questo ci insegna oggi, trent'anni di nascondimento, di preghiera, di dedizione, fatto bene i propri doveri, nella preghiera e nella penitenza, e così deve essere ogni spirito apostolico, tu vuoi evangelizzare, vuoi diffondere Gesù, allora devi essere tu prima pieno di Gesù, e poi la sovrabbondanza la puoi donare agli altri, altrimenti doni tutta la tua miseria, la tua dottrina è confusa, e la tua dottrina praticamente non conduce alla santità, è quello che ha fatto anche San Giovanni Bosco, formare i propri giovani che insegneranno loro la sana dottrina e attraverso la mediazione di Maria, San Giovanni era debottista, era madonna, così ha inculcato ai suoi giovani la devozione a Maria, a nostra signora immacolata, l'immacolata concezione che siamo nell'anno 1854, quando il Papa, beato più non ho, ha proclamato l'8 dicembre la madonna immacolata concezione di San Giovanni Bosco, che era anche terziario francescano, studiando nel collegio cristianastico di San Francesco d'Astisi, come terziario ha diffuso la devozione all'immacolata e a nostra signora ausiliatrice, all'immacolata ausiliatrice, che qui è il nostro aiuto, la madonna, quindi tutti i segreti della sua santità stanno nella devozione a Maria e nel fare bene ogni giorno i propri doveri, e quindi tu con gioia, con allegria, con visione sopra, perché tutto deve essere fatto, non per la nostra gloria, ma per la massima gloria di Dio. Ecco perché la liturgia di oggi ci presenta questo bellissimo testo, siamo nel secondo libro di Samuele, Davide, che commette un grave peccato, perché ha dimenticato chi è, ha dimenticato che tutto ciò che lui ha fatto non è opera sua, ma opera di Dio, invece è caduto nell'orgoglio, si è sentito pieno di sé, vuole fare il censimento, perché dopo che ha ottenuto grande vittore, è morto il suo nemico Saul, è morto anche il suo figlio Assalonne, ha eliminato tutti i suoi nemici, ormai è diventato re di Israele e di Giuda, pieno di potere, ed è caduto nell'orgoglio. Così succede con la sua vita spirituale, molte volte dimentichiamo Dio, quando le cose vanno tutto bene, otteniamo grande successo, tradiamo molte volte il Signore, cerchiamo non più la gloria di Dio, ma la nostra gloria, quello che ha fatto Davide, voglio sapere quando sono potente, chiama Iose, dimmi, fai un censimento, quanti siamo capaci di combattere, siamo 800.000, regno di Israele al nord, e 500.000 è il regno del sud di Giuda, e cade nell'orgoglio, allora Dio chiama il profeta Gad, il primo profeta è stato Samuele, e poi Natane, il terzo profeta di Davide, Gade e dirà, cosa vuoi per la tua superbia, per il tuo orgoglio? Quale castigo vuoi? E Davide ha paura, chiede perdono, ha capito che è stato superbo, e che cade su di me la peste, e così, in tre giorni sono morti 70.000 ebrei, per la sua superbia, per colpa di Davide, 70.000 persone sono morte. Vedete un po' la superbia di un uomo, quando l'uomo non cerca la gloria di Dio, invece San Giovanni Bosco, anche Gesù ci invita proprio a fare tutto per la massima gloria Dei, come ci dice anche San Dignasio di Loiola, tutto questo, non per il nostro amor proprio. E San Giovanni Bosco ha fatto proprio questo, ha sofferto tanto, una famiglia povera, anche la sua mamma Margherita, è rimasta vedova all'età di 29 anni, con tre figli, contadini, poverissimi, e che contadina di te, e adesso è anche venerabile, diventata anche la mamma santa, perché ha fatto bene i suoi doveri come moglie, come mamma, come cristiana, e questo è quello che ci insegna oggi San Giovanni Bosco, e quindi inculcava proprio questo ai suoi giovani, ai suoi allievi, e soprattutto questa grande, grande devozione alla Madonna, che è la mediatrice di tutte le grazie, nostra madre e co-redentrice. Infatti il suo obiettivo è quello di formare dei buoni cristiani e degli onesti cittadini, e quello dobbiamo fare anche noi. All'esempio di Gesù a Nazer, per 30 anni, ha fatto bene il suo lavoro, con onestà, all'esempio, come dire, il castigo di Dio a Davide, che non ha cercato la gloria di Dio, ma la sua gloria, con la vana gloria e l'orgoglio, che è la causa di tutti i peccati, chiediamo al Signore, soprattutto ci insegna a San Giovanni Bosco, che si rifà a San Francesco di Sales, la virtù della pazienza e dell'umiltà, fare tutte le cose con gioia, ma soprattutto con dolcezza, diceva San Francesco, si ottiene di più con un cucchiaio di miele che con un barile di aceto, e con l'umiltà, la pazienza, nel sapere affrontare le difficoltà, e la gioia sta proprio perché non si cerca a se stessi, ma la gloria di Dio. Siano rodati Gesù e Maria. Siano rodati Gesù e Maria.